Dovrebbe chiamare Martin per doppiare Cosa? Dovrebbe chiamare Martin per doppiare il Misadventus Una bella cosa Abbiamo tutto marinai Partiamo Si imbad Tutto 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 Sono arrivati i pirati Che sono buona usiliari Buon pislat Vieni mamma bianca via Com'era la frase iniziale Buon pislato sembra lo sponso Ogricimass Ogricimass Che poi Di sponso sono solo carburanti Oli per motore Si ah Castrol Si ma questi sono falsi One Piece Scendono il ninja da sta nave pirata Ogricimass Ogricimass Oh yeah Deu muodi ikimass Cosimass Cosimo La massa muscolare Il tesoro Ho insegnato così Questa la vuoi capire Questa la vuoi capire La capire Ma la luce si trasformano in trocchi hai visto LOL Copyright I kagebushii Kagebush Spatus Oh Polaretti Eh no Mora andiamo a prendere al polare Al capo dei polaretti Allora c'è il cuore Per arrivare fino al livello suo Ok sono affondati Qui c'è la pala Perfetto Ce n'è un'altra Ivan Buone i cazzo dei polaretti Solo che non Ci mettono un sacco di tempo a fare in frigo Spesso mi bagnavo senza metterli in frigo E ora quanto dura il veleno? E ora quanto dura il veleno? Non so proprio Oh Oh Bastardo Casuale Ah c'è la santa Oh Oh Io ora mi hai rotto Eh Sabbia mobili Eh Scorpioni Scorpioni What out Australia Ma tanto che soffesi Si Infatti Mmm c'è qualquadro che non cosa Ok con uno sputo muoio Mmm Vabbè Luccis in fiendus il suo il e che l ancora questi mi stanno proprio a live la salvezano la macchina troppo troppo oggi la distanza porto e boss chi è? ma lo distrago io cioè che brutta cosa proprio, sacrificarsi così oh oh ok si sono svegliati? ho una buca eh infatti gnam 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 le mele fanno bene oh oh po po la resta dom t è arrivato il kung fu calabrone è spesso no bleh era bello pure si fa gli steroidi non mi fa una voglia campagna pro steroidi ragazzi cazzo è crusher questo è un gioco basato sugli steroidi e l'hai cagato l'hai cagato si ah la macchina attacco di brutto ma li puoi anche ignorare tra io no 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 di brutto di brutto tartagnan e uno tartagnan tartagnan l'hai trovato lo stivale anche un uuuu momento oh yeah ma resto un momento ah boh autoturidi steroidi basta eh pure io a malestra proviamo un uuuu cazzotto faccio culturismo fotti di stronzo hai capito ma hai capito secondo me quello che la cantava la canzone di polaretti d'olfi era antonio da giovane se vuoi si faccia l'autografo se vuoi si faccia l'autografo mh con la bocca piena me lo faccio piena di polaretti si mangia polaretti a tra di me i quelli non si mangiano si ciucciano eh se sai cosa vuoi dire ah no ma dobbiamo fare per forza questo mi sa di si non possiamo avanzare stessa tecnica eh cazzo ah vaffanculo ah ma li posso mandare pure dove ah non trovo niente c'era un animaletto da qualche parte di brutto di brutto di brutto di brutto oh i samurai vai ahia eh mi sa che vai con gli steroidi vai vai madonna sono un mostro ah 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 per lontanissimo non si è alleso come si chiamavano quelle caramelle ariba antoni non è che posso sapere tutto è impossibile è una testimonial delle volorete come fa a non sapere io non lo volevo dire ma se vuoi ti faccio l'autografo anche per quello comunque le mie preferite erano quelle di liquirizia ripiene è quello solo mamma mia tenevo il nome sulla lingua vabbè mica bisogna andare da dalla riposta sono di diversi marchi vabbè le vendono pure i cari morositas no di liquidità nere ripiene ah ok viene di coloranti si si comunque che infanzia oh sei una gomma umana tu adesso non esiste più nulla rimango solo le gole ad or ci sono quelle in effetti siccome io non c'entro più i tabaccai lol do tutto per finito come i vecchi dico si è proprio vecchio infatti le gole ad or mando il mio pro cugino a comprare che c'ha 12 anni vergogna è pure il sfruttatore minorile ma fa schifo e poi ce le dividiamo fa schifo è schifo è schifo lui lo aiuto a fare compi e lui mi compra le gole ad or mi fa bene eh ma ora sta cominciando a farmi incazzare mi sta per morire non c'è che incazzare eh guardami guardami sai che sta l'animale aumenta i danni corpo a corpo faccio più male guardami 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 lascia aver sbagliato e poi si viene non so a che fa se non sbagliato trova oggetti tirati forse sta facendo una cazzata oh quello questo qui quello che sembra una capra con le corna quello che è lì guardami 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 provisions ok cazzo è tornato al futuro questo li fa nascere già morti cominciare i pezzi molto più bello giocata difficile destine all'inizio si si posto proprio si però sembra la solita solfa la donna jimmy di cattiveria con il suo sollecino questo gli alieni nooo siii di nuovo questo è coriaceo che c'è sparo ma devi essere lì non troppo agita troppo poco troppo poco si il mochetto si esplosa ok il dipendente ma c'è se ci sono sto c'è un po' di me c'è la faccia di cazzo anche mentre viene portato sulla nave ok tutto qua ok grandi prigioni non potremmeno uscire muovo ma questi secondo me sono i creatori del gioco futurama tipo easter eggs salve veniamo in guerra ok ok tu sei futurama tipo griffin cose 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 griffin no non tantissimo cioè però south park futurama si sa south park non tanto anche c'è un south park è il è una caramba qui south park è solo è pazzia è esagerare parola 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 ci hanno fatto anche il film al cinema quindi io non so forse io penso ho preso l'oscar che non è anche una simpatia cosa dai un altro di capri è è triste infatti un altro di capri un fatterà questo vizio che sia il posto ma non è che dobbiamo diserziare l'arma può darsi il problema è come il problema è come il problema è che era proprio che dovevo affrontare le pareti ma quali i suoi problemi? era il problema mi ricordo tanto qualcuno è poi successo anche è il gioco degli steroidi anche tra gli alieni noi siamo qua eh ma è impazzito troppo allenamento stavo facendo una serie cazzo oh 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 no no questo no questo no troppa ansia no mi è andato a fanculo formiche di merda ecco eh zanardi si zanardi proprio cieco ma vaffanculo ma intanto io ho uscito dei tizzi qua mi sa che non ce la facciamo eh vieni 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 vogliamoci no no vieni 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 ci sto arrivando comunque raga mi sa che disinstallo borderlands dal computer perché prima di tutto non ci giochiamo mai secondo mi occupa troppo spazio ci giochiamo quando vuoi anche ora no no poi non ci vuoi manco giocare ma tu mi vuoi far credere che ci siamo riusciti no no certo è no ma Poi quel cazzo di Gigi una volta l'ho sentito E' scomparsa E' scomparsa la circolazione Ma lui è un tipo così Si fa desiderare Ma è napoletano Gigi no? Non c'era E' più esaverna E' più di nuovo Su un lato L'altro è più stile No allora questa parte del gioco Cioè questo livello c'era perché mi sembra di non presentare Il loro secondo gioco Che era Alien on the lead Che parola è di quelli di Castle Crush Cioè questo gruppo con Castle Crush Ha sfondato parecchio Anche BattleBlock Ma ho un po' deluso BattleBlock Castle Crush invece mi è piaciuto parecchio Cioè Mi ha deluso Picazzo BattleBlock era brutto Che non potevi giocare in quattro la campagna I livelli sono in due Ok arrivo Guardiamoci lo steroidamento Bello proprio non curate Sì sì Durante la sua serie di bicipiti concentrati Lol Fui 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 non mi vedevo l'ombra Ivan se cammini piano piano Non li prendi per forza Ok Adesso non mi vedevo l'ombra Fai tranquillo Ok andiamo là Easy 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 Questo giro è fatto Che stronzata ma le fa tutta sta fila Eh Eh io No ma scherza questo giorno Sta prendendo in giro Siamo a livello di prince oppressio Io ti sputo Bello Mi piace È una salivazione È una salivazione Proprio Poi ti displusi Pum 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 Tu devi calcare Per pere dotare 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 Vem Pum La spera le 7 ah è proprio a cavalleria proprio cavalleria avanti date un segno della vostra potenza voglio un segno della vostra tazzo sputazzo noi siamo i cammellieri dell'ordine della sputazzo il signore del cammello i signori dei cammelli la compagnia del cammello la compagnia della sputazzo ehm guarda guarda che risolve? ah le due non so già le due basta mi sa che si è sistemato il fatto degli amici dopo un giorno ci sta anche dove scappa corri come un tornato io che manco li sto attaccando ciò che ci passo sopra che cosa sta a fare? che cosa sta a fare? che cosa sta a fare? è un'astronave che cosa sta a fare? che cosa sta a fare? come è andato l'uomo cammello? oh white white finalmente cazzo mi ha sistemato mi avevo problemi su questi amici che cosa sta a fare? ah no però vuoi più della chat se ci stai parlando tutto ciò ci stai parlando tutto ciò ci stai parlando tutto ciò ecco mi sento mi sento ciò immaginavo che buono bravo io ah vuoi prova quella? proviamo tanto dopo lo possiamo prendere quando vogliamo si è simpatico qui e adesso arriva anche il persiano compa gli steroidi non conoscono razza senti? si 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 hanno look proprio si si non scope oh c'è un gattino che gattico si è inoltre non c'è come idea oh oh questo se ne fa parecchie stai in effetti si in effetti stai parlando tutto ciò chiudi questa si ma tu sei a livello? 15 15 ma non sconfri la ridotto uuuh uuuuuh uuuh uuuuh 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 troppo forti nel corpo a corpo ma freccine power molto prince of perse xx sacca l'attimo metti il muto su piccino quando si taglia la testa headshot gioco violenta peggy dodici si 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 dove peggy ehi t sono un d'artagnano angaarda anga non ci vedo un ca troppo bello quando la carica è fantastica ma è ancora a posto cioè quando la partiremo al massimo con la spada giusta o cazzo 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 preparo di partire o cazzo o cazzo dalle partenze iiii ah bello, capito? invasione di cazzo no, ragazzi, erano 8 side nooo oh no, dai fallo di mano no oh, non la possiamo perdere eh già pareggio nooo 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 dai, ma non si capisce dove a terra sta panna eh, con l'attacco pesante dove sti eh, così non vale dai, sti coglioni fail e vincita e vincita mannaccia nooo gnufu no, mo' canna da vincere stronzo ah, ho naturalizzato il lusso di diarmi a distanza ok ah, va bello dai, stracciate a casa a casa ti perdono dgs ah, ce l'ho conosciato il premio mh, una mappa spoccato nuovo personaggio chi è? ah, il... mh giusto un po' di forza eh, ma giusto un po' mh mh, tank questo è eh, vabbè, questo altro ci finirà ciao ciao